Da giro rosso, lo squarnati sta addosso, se in penna sembra morso, scappa e chiama a soccorso, li senti da lontano, gira soltanto in branco, la cria salta a Milano e la madama resta in pieno, stiamo fuori casa quindi cercaci per strada, messo solo con città, stile ovunque vada, stiamo troppo forte, non ci trovi sulla macchina, ci si fotta con la mano sulla targa. Avanti, indietro, avanti, avanti, indietro, sempre come sempre, avanti, e ogni tanto vado anche indietro. Andiamo avanti, che fosse il meglio, cioè nel senso indietro, cioè vabbè, guardate dove volete, poche parole. Tento anni guarda, gira il rosso, lo squarnati sta addosso, se in penna sembra un orso, scappa e chiama a soccorso, li senti da lontano, girano soltanto in branco. E ciao a tutti ragazzi e ragazze, e ben ritrovati in questo unissimo video. Come ho notato, lo scorso video vi è piaciuto molto, quindi siamo qui con la seconda puntata. Mi raccomando ragazzi, subito, prima di iniziare, lasciate già un bel like e anche un'iscrizione. Io comunque vi ringrazio tantissimo del supporto nello scorso video, ma oggi siamo qui in questo unissimo video, quindi mi raccomando, spaccate anche questo video di like, di condivisioni e di iscrizioni. In questo video cosa vedete? Beh, vedete ovviamente la seconda parte del video della scorsa settimana. Quindi ragazzi, io vi auguro una buona visione e grazie di cuore del supporto che mi sta andando in generale nel canale. Grazie a infinite, road to 3000 iscritti. Ragazzi, io vi auguro una buona visione. Ciao belli! Grazie a tutti. Già lo sai che l'impennata è d'obbligo Analizziamo questo frame Io cosa volevo fare? Ovviamente volevo salire sopra queste assi di legno Però come vedete ci sono dei buchi E indovinate un po' questi mini buchi Chi ci è passato con la ruota Beh, è il sottoscritto Sono un coglione, niente da dire Quattro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Io mi sono lavato. Non me ne frega un cazzo. Ma mi riprende? Non sei deficiente. Grazie a tutti. E ovviamente salutiamo come delle brave persone. Come avete visto mio fratello ha fatto un movimento con la testa, ovvero un movimento tipo da scocciato diciamo. Perché una signora previnceva mandato siamo gentili a quel paese. Non si sa la motivazione. Un saluto alla signora. Tra l'altro dopo piccolo spoiler ritorneranno. E vedrete, vedete, vedete. E a questo punto non te la fai una bella impennata, ma è chiaro che te la fai. E a questo punto non te la fai una bella. E a questo punto non te la fai una bella. se faceci. E a questo punto non te la fai una bella. è facile anche da dietro appoggiamola qua come staccia la devo mettere sta merda lo venite qua a metterla a parte gli scherzi perché non l'avesse capito ha chiesto vi siete per caso persi ma persi de che comunque ragazzi queste qua sono le signore di prima e sono tornati col botto che storia che ho fatto dai non fate i pigri seguiteci su instagram ecco a voi qua i nomi schermo e ragazzi eccoci qui alla fine di questi due episodi diciamo di questo primo video in moto spero che comunque vi sia piaciuto mi raccomando like iscrizione e mi raccomando commentate scrivendomi dicendomi se ne volete altro mi raccomando ragazzi non dimenticatevelo io adesso ragazzi vi auguro una buona giornata una buona serata un buon buona mattinata un buon pranzo buona cena buona colazione quello che state facendo grazie del supporto ragazzi in generale che state dando al canale noi ci becchiamo in un prossimo video ovvero venerdì prossimo e in un prossimo shorts ovvero tutti gli altri giorni tra il saluto e il venerdì perché il venerdì esce il video mercoledì e venerdì alle ore 18.30 mi trovate in live sull'altra piattaforma ovvero su Twitch che ci vuole il supporto ci becchiamo ciao ragazzi ciao